Per sposare la missione di Moderna di portare i suoi prodotti a curare il più ampio numero di pazienti in tutto il mondo e quindi anche in Italia nasce dalla filiale italiana, circa un po' più di sei mesi fa, con grandissime speranze e ambizioni sicuramente stiamo assumendo, crescendo, creando il nostro team di professionisti preparati ma anche pronti a raccogliere la sfida di Moderna abbiamo intrapreso parecchie relazioni istituzionali per cercare di valorizzare con le autorità regolatorie il portafoglio di prodotti di Moderna e abbiamo anche la voglia e l'ambizione di verificare le possibilità di uno sviluppo industriale di Moderna in Italia tramite accordi tra pubblico e privato che spero possano dare ancora più visibilità e possibilità alle strutture private e pubbliche al fine di aiutare al meglio i pazienti che soffrono di tante patologie in Italia